Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Fano, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, hanno arrestato nei giorni scorsi un cittadino tunisino di 30 anni con precedenti per droga e senza fissa occupazione, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all'abitazione e dal luogo di lavoro della coniuge, una concittadina con nazionità italiana, disposto dal Tribunale di Pesaro. L'uomo verso la mezzanotte è stato sorpreso dai poliziotti nei pressi dell'abitazione della donna subito dopo aver vandalizzato la vettura dell'ex tagliando i pneumatici con un grosso coltello da cucina. È stata la stessa donna a chiamare il 113, accortasi che l'uomo si trovava sotto casa e così per la volante che si trovava sul posto la reazione è stata immediata ma alla vista degli agenti il trentenne si è dato alla fuga a piedi riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce ed abbandonando però sul posto una bicicletta ed uno zaino contenente il grosso coltello ed una cesoia. Dopo accurate ricerche attivate dalla polizia il tunisino è stato rintracciato a Fano nella zona del Flaminio ed arrestato. Come conseguenza del proprio atto violento il tunisino è stato segnalato all'autorità competente giudiziaria di Pesaro per l'aggravamento della misura di avvicinamento impostagli e portato di conseguenza nel carcere di Villa Fastici.